San Vincenzo Vincenzo, nato nel III secolo in Spagna o Huesca da una famiglia consolare, fu affidato a Valerio, vescovo di Saragossa. Divenuto arcidiacono, svolse con competenza e carità i compiti di amministrazione dei beni della comunità e la predicazione del Vangelo. Persino i pagani ammirarono il suo zelo nell'aiutare i bisognosi e molti si lasciarono conquistare dalla sua parola. Durante la persecuzione di Diocleziano, il governatore di Valencia, Daciano, si lanciò con ferocia contro i cristiani di Spagna. Vincenzo fu decapitato. Si narra che il suo corpo sia stato dato in pasto ai cani, ma a salvarlo dallo scempio sopraggiunse un corvo. È protettore dei vignaioli e dei mercanti di vino ed è il patrono di Saragossa, Vicenza, San Vensan e Cernobbio.